Perché scegliere un involucro Iron Dome? 7. Per gli elevati standard che noi siamo in grado di offrire da un punto di vista di design flessibile ed accattivante che riguarda un mercato a 360 gradi. Mi spiego. Il CFS, la tecnologia stratificata a secco del CFS con tutto quello che è il mondo delle facciate e delle coperture ventilate che noi utilizziamo per i nostri involucri, è tale che ci permette di intervenire e in casi di costruzioni ex 9, quindi come ripeto, siccome noi customizziamo il processo di casa Iron Bomb e quindi arriveremo in cantiere già con tutto pronto, semplicemente da assemblare su una piattaforma, su una platea o delle travi rovesci e cemento armato, significa dire in poche parole costruire ex 9 una struttura totalmente pre-assemblata. Possiamo abbracciare sia il mondo dell'ex 9, ma grazie alle caratteristiche che ho citato nei precedenti perché legati al comportamento scatolare, all'elevato grado di dissipazione e soprattutto alla minor massa che mettiamo nei nostri sistemi, siamo anche in grado di essere molto concorrenziali con tutte quelle che sono le progettazioni per sopraelevazioni, ampliamenti, recuperi edili, appunto perché come dicevo il peso dell'intera struttura è molto più leggero e il comportamento che questa struttura ha rispetto alle azioni di sismi anche di elevata intensità è molto più performante ed efficace rispetto ai tradizionali sistemi all'umido che vengono oggi costruiti. Basti pensare che la nostra struttura scatolare ha un peso che va dalle 10 alle 12 volte in meno rispetto a quelle che sono le tradizionali costruzioni e quindi significa che nel caso delle sopraelevazioni immaginiamoci tutta la semplificazione che andremo praticamente ad affrontare nel consolidamento statico strutturale degli involumi che si trovano ai livelli sottostanti e quindi anche un'accelerazione di tempi e di costi. Anche il mondo del recupero edili, ovviamente anche il caso in cui dovremmo affrontare dei design spinti siamo in grado di poter progettare delle strutture che unitamente a sistemi ibridi, acciaio o legno possono soddisfare anche questi altri requisiti di estetica.